Vogliamo passare un'altra primavera in lockdown e questa deve essere l'ultima. Vogliamo ricominciare a darci la mano, ad abbracciarci, a incontrarci, a scambiare le nostre opinioni, a far valere le nostre ragioni in pubblico in eventi in presenza, esattamente come facciamo al Festival del giornalismo alimentare. Ma per questo dobbiamo vaccinarci. Grazie a tutti.